Il roma, il roma, il roma, il roma Questo cavalca ferrovia dedicato all'unità d'Italia è già caratterizzato da molti primati che vanno ad impreziosire le megastrutture orizzontali sospese che in precedenza si era utilizzato soltanto per le strutture in verticale C'è una folta alla presentanza del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, cioè della giunta con il vice sindaco e tutte queste persone sono venute per un evento importante e vi ringrazio, ci sono tantissimi cittadini, ci sono moltissimi automobilisti che fra poco passeranno sul ponte con le loro automobili sono tutte auto d'epoca, anzi per la verità no perché le ultime sono degli ultimissimi anni e sono macchine molto belle ma non d'epoca ecco grazie perché avete colto una cosa importante e cioè che quando finisce un'opera pubblica è finita un'impresa sempre faticosa, difficile e vale la pena di festeggiare poi ci sono le persone da ringraziare per l'impegno che ci hanno messo a realizzare quest'opera si va dai progettisti, a chi ha diretto i lavori, all'impresa che ha eseguito l'opera con tutte le maestranze, con tutti i dirigenti molti ingegneri hanno lavorato per realizzare questa opera straordinaria la vedete, è un ponte strallato che ha una luce di 100 metri cioè poggia su due piloni distanti tra di loro 100 metri attraversa senza appoggi l'intero percorso ferroviario e collega due parti della città che prima non erano collegate rapidamente adesso saranno collegate immediatamente non è completato tutto perché dove siete adesso voi passerà la pista ciclabile pronta a settembre per i partissimi mesi e sarà possibile raggiungere le due parti le due estremità anche in bicicletta mentre ai lati abbiamo le due corsie le due corsie per i due sensi di marcia si tratta di un'opera molto importante per la nostra città perché consente di organizzare in modo nuovo e più completo la viabilità cittadina con il ponte che abbiamo aperto circa un anno fa il ponte Dalmazia abbiamo dedicato appunto a Dalmazia ricordando una vicenda tragica della storia italiana questo invece all'Unità d'Italia visto che siamo al 150esimo con quel ponte consente un percorso nuovo per andare da est a ovest nella nostra città e libererà dal traffico in parte l'Arcello e in parte il centro cittadino e darà una nuova velocità di spostamento all'interno delle nostre aree urbane Ponte Ivorosi alla fine dopo alcuni mesi di cantiere e anche qualche difficoltà perché sono 100 metri di ponte si è arrivati in porto con l'inaugurazione Devo dire che è uno dei casi rari nel nostro paese in cui si riesce a far rispettare i tempi e averlo in due anni è una cosa che non è comune ma soprattutto io penso all'importanza perché è un generatore di una città nuova positiva penso alle funzioni che si svolgeranno qua dietro con il nuovo centro congressi cosa impossibile se non avessimo questo ponte lo stesso innesto del tram che ci consentirà di offrire un gran più parcheggio qua dietro alla fiera per chi vorrà accedere al centro storico oltre che alla fiera stessa e penso all'opera straordinaria di collegamento ricucitura fra l'Arcella e il centro storico oggi l'Arcella è un pezzo della città prima era un corpo separato oggi invece è interna alla città ma ha effetti questo ponte anche sull'organizzazione della mobilità più in generale oggi abbiamo Niccolò Tormaseo e via Trieste che sono in sofferenza permanente la zona della stazione non è certamente brillante dal punto di vista della mobilità ma questo ponte consentirà di migliorare in modo significativo e di cambiare abitudini anche per quanto riguarda il nodo della stanga dove posso dirlo così intanto timidamente non escludo che fra qualche tempo si possa immaginare una grande rotatoria che elimini quei semafori e questo sarà possibile grazie a questo ponte e anche ovviamente al collegamento che faremo con Padova Est questo per dire come questo sia un fulcro di un sistema destinato a cambiare il volto della città la medaglia rappresenta Galileo Galileo c'è stato l'anniversario pochi anni fa due anni fa ma ci interessava a segnalare che l'opera del design umano a Padova trovo un riferimento importante nella figura appunto del grande scienziato, matematico, astronomo che ha segnato a Padova per più di 15 anni che bella grazie a Padova a Padova a Padova sindaco abbiamo visto le moto sfilare sul ponte insomma è una bella soddisfazione nonostante la pioggia una bella festa beh finire un'opera pubblica di questi tempi è davvero un'impresa e riuscire a farla nei tempi previsti e al costo previsto è sempre un'enorme soddisfazione poi questa è un'opera che avrà tutta una serie di ricadute molto positive per la nostra città perché da una parte collega l'Arcella con un ulteriore manufatto molto importante ma anche consente un percorso est-ovest molto più rapido liberando zone dell'Arcella e del centro e infine si arriva attraverso questo ponte i parcheggi retrostanti la fiera avremo un reddito che investiremo nel nuovo centro congressi insomma sono tante cose che con questa opera che sembra un'opera semplice ma è molto importante siamo riusciti a realizzare nuovo centro congressi tempi previsti sappiamo che è tutto abbastanza deciso la regia sarà operativamente quella della fiera i tempi possono essere abbastanza brevi almeno quelli simili alla realizzazione di questo ponte allora io penso che riusciremo ad andare in gara con una gara che sceglie insieme progettista e impresa verso ottobre inizi di ottobre poi l'impresa che vince avrà il compito di realizzare progetto e di realizzare l'opera e andranno altri due anni quindi noi possiamo pensare che fra due anni e mezzo due anni e tre quarti avremo l'opera completata cioè ci aspettiamo verso la fine del 2013 inizio 2014